Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo attribuito la medaglia del Comune all'assessore provinciale Andrea Fellini, all'ingegnere capo Gabriele Alifroco e al geometra Mesti per quello che riguarda l'amministrazione provinciale. Poi a Baiardi e a Galloni che lavorano per l'autocamionale della Cisa. Inoltre a Bandini Adriano e a Mario Anelli che ci hanno dato un grosso aiuto per quello che riguarda l'acquedottistica nel Comune di Berceto e un impegno notevole per evitare delle crisi di siccità come poteva succedere visto la stagione. Per cui noi abbiamo avuto piacere di portare queste persone ad esempio di tutta la popolazione anche perché questa amministrazione comunale è impegnata a trasformarsi in comunità quindi avere delle persone informate, partecipi che si interessano della cosa pubblica. Quindi più esempi ci sono e cercare anche di avere riconoscenza verso queste persone e meglio è sperando che altri ne seguano l'esempio. È stato più una seduta quasi da Opus Dei che da Consiglio Comunale. Infatti fra le motivazioni c'è proprio quella che era anche la motivazione del fondatore della Opus Dei che sosteneva e credo ha ragione che si può diventare santi svolgendo bene il proprio lavoro. Le persone che abbiamo premiato hanno svolto veramente bene il loro lavoro in favore della comunità di Berceto.